Bene ragazzi, allora video di emergenza dopo il crash dei mercati di ieri pomeriggio, tutto driven, quindi guidato assolutamente da Nasdaq, Nasdaq 100. Cosa è cambiato? Cosa sta succedendo? Niente di diverso dal solito, i mercati continuano, questo trend è ribassista, ma assolutamente l'impatto del ribasso di ieri è stato notevole sui mercati. Andiamo quindi a fare un po' un briefing della situazione, andiamo a vedere che cosa è successo, se Bitcoin ancora riesce a mantenersi sopra a determinati livelli, vi dirò anche la mia per quanto riguarda questo mese di maggio che è iniziato male ma potrebbe ancora regalarci delle buone sorprese, però assolutamente ragazzi, dovrebbero mantenere alcuni livelli di prezzo, alcuni livelli di supporto su Bitcoin proprio nel mese di maggio stesso. Ve li svelo un po' in questo video, anche perché sono quelli che sto seguendo io, ci siamo arrivati, siamo in pratica vicinissimi a questo livello. Andremo a guardare anche il grafico dello spread che abbiamo visto nell'ultimo video tra Bitcoin e Nasdaq 100 perché anche quello ha disegnato una settimana leggermente più rossiccia ma è comunque lontano dai livelli pericolosi e poi andremo anche a focalizzarci su Crypto.com, CRO che continua la sua fase di discesa dopo il dampone che è venuto con la questione delle carte, si aspettano sicuramente delle news probabilmente nei prossimi giorni per diciamo che magari qualcosa che può svelare l'azienda però in ogni caso continua anche questa fase ribassista per Crypto.com e poi andiamo a vedere la total market cap della DeFi che stranamente ragazzi mantiene, mantiene in maniera adeguata rispetto anche a un flash crash come quello di ieri. Prima di andare al video ragazzi un grazie speciale da parte mia a tutti quanti voi per l'affetto che sempre mi dimostrate, il lancio di It's Train Time 2.0, il corso basic di Trading On sta andando assolutamente alla grande ragazzi quindi una grande risposta anche da parte vostra e come sempre anche in un periodo assolutamente complicato quindi probabilmente molti di voi hanno capito quanto è importante soprattutto anche in periodi di bear market e di mercato ribassista avere una formazione alle spalle importante quindi una formazione solida anche nell'ambito investimenti e nell'ambito trading in particolar modo mi avete fatto veramente decine di domande su questi nuovi moduli premium, un nostro nuovo modo di comunicare che secondo me sarà importantissimo anche nei prossimi mesi ragazzi con dei moduli dedicati per approfondire proprio quelle che sono delle tematiche importanti in alcuni determinati momenti come ad esempio questo bear market infatti la strategia crypto spread trading tra l'altro ne ho presentato un estratto piccolino anche nella crypto conference crypto trading day proprio nella giornata di ieri a Bologna ragazzi poi la gestione del portafoglio crypto fondamentale modulo premium 2 e poi mindset psicologia che a dire la verità ha interessato tantissimi di voi proprio perché qui parlerò un po' anche di quelle che è il mio escursus storico sul mindset tutti questi moduli saranno disponibili più o meno entro la fine del mese di maggio ragazzi però acquistabili in super pack in questo momento è un'offerta lancio che già ve lo dico non si ripeterà assolutamente mai più ragazzi quindi fino al 9 di maggio queste sono le offerte di lancio appunto dei nuovi corsi che sono uniche e avvengono solo una volta questo è giusto per essere anche molto molto onesti ragazzi poi non avremo nuovamente questo tipo di offerte quindi grazie di cuore veramente a tutti quanti voi io ci sto mettendo l'anima anche nella registrazione di questo corso basic 2.0 che è assolutamente completamente diverso ci sono veramente tante tecniche dietro cui anche ieri scherzavamo qui alla crypto trading day al pattern caimi che insomma funziona da dio anche sulle criptovalute una modifica del pattern 1 2 3 di john ross quindi simpaticissimo e anche estremamente funzionale sui mercati dell'ecripito va bene andiamo a vedere allora quello che è la questione di bitcoin e il flash crash è stato tutto guidato dalla nasdaq ragazzi in questa fase quindi non è un flash crash guidato dai mercati dell'ecripito ovviamente sempre il motivo di fondo di questi crash è dovuto alla questione della rialzo dei tassi di interesse della banca centrale americana la federal reserve in questa struttura abbiamo più o meno un meno 8 di bitcoin in una sola giornata ma soprattutto è qui ragazzi non spendo neanche parole perché guardate il concetto delle due medie mobili che stiamo seguendo quelle che vi spiego insomma la 11.21 c'è anche un modulo proprio dedicato dove spiego come utilizzare queste coste medie nel corso basic kids trading time 2.0 l'ho voluto inserire ancora non l'ho registrato ragazzi questa lezione ma ho voluto metterla in programma proprio perché ho detto va bene lì lo siamo in continuazione su youtube facciamo una lezione proprio per spiegare come si usano queste medie e perché hanno questa enorme valenza quindi guardate quello che è successo insomma i grafici parlano da soli ma non è l'unica volta anche qui la stessa cosa anche se torniamo indietro nel tempo ragazzi vedete questi diciamo queste fasi sono piuttosto limitate queste fasi che superano questo due tipo di media quindi anche qui vedete c'è una sorta di rimbalzo a modi resistenza supporto interessantissima anche per la visione a lungo periodo dei mercati e le criptovalute per comprendere anche come si può invertire un trend quindi se non saliamo al di sopra di queste medie come vi dicevo nell'ultimo video non si può invertire questo trend al ribasso per quanto riguarda questa fase di bassista a livello ciclico allora qui sicuramente sul minimo più o meno di questa zona guardiamo la mercato con close quindi più o meno intorno al 30 di aprile potrebbe essere stato chiuso un ciclo di natura settimanale a questo punto la situazione si è un po' complicata ragazzi perché se qui è stato chiuso un nuovo ciclo settimanale siamo a 12 giorni abbiamo ancora pochissimo tempo qui siamo a 17 con il minimo del proprio di ieri intorno a 35.500-600 dollari mancano pochi giorni ragazzi quindi o terminiamo qui questa struttura 17-18 giorni domani massimo non di più se facciamo nuovi minimi mi aspetto un livello che vi dirò fra pochi minuti perché il livello secondo me c'è un'area by the deep in questa zona ma solo ad inversione di trend quindi non do consigli finanziari ve lo dico non mi venite a dire che c'è del by the deep in quella zona io vi dico l'area di by the deep che sto immaginando sto seguendo in questo momento ma entrerò long solo a inversione di trend quantomeno su grafici di natura oraria 4 ore quindi lì proprio trading ragazzi quindi non potete fare un ingresso del genere se non siete formati sul trading ve lo dico in maniera molto chiara dovete attendere in quel caso il mercato se il mercato fa una inversione sul time frame daily poi entrate però chiaramente a prezzi totalmente più alti in questo caso però questa è una situazione ghiotta per tanti tanti motivi è molto rischiosa ve lo dico quindi però dove c'è il rischio a volte c'è anche molto rendimento quindi io la traderò proprio perché mi piace questo tipo di logica la stiamo seguendo in academy già da circa i diciamo fine mese di apriera che stiamo attendendo questa fascia di prezzo quindi se dovesse andarci come sempre stia facendo bitcoin già il primo livello è stato toccato perché era intorno ai 36 e qualcosa adesso ne abbiamo un secondo che vi dico tra un po' e vi disegno l'aria per capire un po' il da farsi allora a livello ciclico abbiamo i giorni contati ragazzi quindi se non chiudiamo questa fase entro massimo domani già dopo domani diventa secondo me fuori luogo probabilmente dalla zona del 19 aprile a quel punto è iniziato un nuovo ciclo mensile di natura ribassista già che significherebbe una cosa molto negativa cioè il fatto che i mercati possono continuare a scendere fino almeno al 18 20 di maggio questa cosa è pericolosa potremmo addirittura andare a ritoccare questi minimi in questa zona qui ed è proprio quella l'aria che come vi dicevo prima stiamo attendendo anche in academy sto attendendo anche io per eventualmente sfoderare un po' di missili ragazzi cioè questa zona questa zona qui adesso vi disegno una linea ed è quest'aria di supporto questa tra i 36 e i 34 e 6 questa zona qui ragazzi tutta quanta il mercato l'ha sguisciata vedete proprio nella giornata di ieri aspetto un altro po' perché se dovesse veramente esserci un mensile ribassista probabilmente il mercato si andrà ad avvicinare intorno ai 34 solo ad un'inversione di quest dopo un diciamo un ingresso in quest'area solo ad una eventuale inversione io la farò su time frame ibrevi quindi da trader proprio puro ragazzi però potete anche aspettarla appunto su time frame daily solo ad inversione allora inizierò diciamo a pensare magari ad un rientro su alcune criptovalute come per esempio ethereum o anche altre della della settore della de fi e ovviamente bitcoin quindi questo dal mio punto di vista la diciamo analisi migliore quindi quella che secondo me potrebbe essere il momentum attuale e di questi mercati andiamo a vedere anche se su ethereum cambia qualcosa ma ethereum ancora forte ragazzi allora le cripto in generale stanno dimostrando in questa fase di bear market laterale un bear market un po' diverso da quello che abbiamo visto nel 2018 2018 stanno dimostrando un po' di forza molto di più rispetto a quella di bitcoin a quella attesa diciamo rispetto anche un bitcoin così debole e a un mercato così debole guardate anche ethereum che è vero che è vicino all'area di minimo fatta lo scorso marzo però non così vicino guardate un po' e soprattutto in una fase di forte volatilità come questa solitamente questo tipo di cripto scrollavano a piccola allora questa è un'indicazione ragazzi nei momenti di difficoltà si vedono anche gli spirali di luce in questo caso ethereum indica anche insieme ad a total market cap della defa che adesso ve la mostro che in realtà le cripto valute non sono quelle che stanno guidando questo ribasso questo non è un ribasso guidato dal settore delle cripto che è florido ha dei fondamentali ottimi ma è come se fosse in attesa che i mercati classici quindi i mercati old quindi nasdaq per esempio oltre a il solito s&p 500 finiscono insomma questa fase di crash perché veramente quello che stiamo assistendo a un crash reale dei mercati proprio classici quindi non è in sostanza un crash dovuto alle cripto questo ragazzi allora qui abbiamo nasdaq nuovamente con un tentativo di rimbalzo la settimana scorsa e sta avvicinandosi con oggi venerdì a concludere la quinta settimana in rosso di fila una cosa che non avveniva non so da quanto tempo questo è vera dice lunga guardate è proprio difficile la quinta candela consecutiva trovarla in questo grafico vedete non si trova ragazzi parliamo veramente di cinque sei dieci anni di distanza e questo ve la dice lunga con la serie storica e ricordatevi che le serie storiche non sono probabilità di natura matematica ma sono serie storiche quindi c'è sempre alle alle sono sempre aleatorie e in base a al loro utilizzo quindi bisogna comprendere che una scarsa probabilità di una serie storica non è una probabilità bassa in termini numerici quelle sempre diciamo la stessa però guardate qui poi ogni tanto arriva la serie storica a fare il nuovo record quindi questo in questo caso se dovesse veramente chiudere così adesso vedremo perché sto registrando intorno alle 11 di questa mattina quindi quando poi riapriranno i mercati americani pomeriggio potrebbe riprendere fare una verde però anche se fosse perché vicino comunque il livello di apertura quindi potrebbe tranquillamente farla diventare verde anche inside diciamo così però ragazzi questa la dice lunga questa cosa qui allora ancora una volta su questa settimana siamo ancora in un'eventuale possibilità che nasdaq chiuda qui la situazione ribassista però è veramente un estremo abbastanza pericoloso ragazzi come sempre siamo intorno al 25 punti niente di grave se dovesse aggravarsi la situazione scenderemo probabilmente intorno alla zona degli 11 mila prima e 10 mila dopo una cosa del genere sarebbe impossibile per il mercato delle cripto mantenere i supporti di eh dello scorso anno quindi quello significhere eh probabilmente vedere bitcoin di nuovo vicino aria 20 mila dollari quindi non voglio neanche pensarci in questo momento io spero che i mercati si mantengono in così anche perché un nasdaq che perde così tanto ragazzi è già comunque un bel danno per l'economia reale quindi penso che poi la banca central americana non voglia in nessun modo andare a impattare più di tanto su questi discorsi andiamo a vedere la eh total market cap della defi per un ulteriore conferma di quella che è la situazione allora per quanto eh qui sia stato breccato adesso in questa settimana probabilmente verrà confermato il livello di supporto da 120 billion non è una cosa gravissima ancora perché resta questo qui l'ultimo livello l'ultimo spiraglio 100 billion sotto 100 billion confermati inverte il trend di medio lungo periodo per quanto riguarda questo grafico e probabilmente andremo poi ad avvicinarci alla chiusura del ciclo annuale di tutte le cripto valute che dovrebbe avvenire intorno alla fine della dell'estate e insomma in autunno questo è fine estate i primi di giorni dell'autunno questa cosa qui eh l'andremo a monitorare mi interessa tantissimo perché ragazzi ehm in una fase del genere bisogna anche attendere bisogna sapere attendere che i mercati ci diano dei livelli molto interessanti e secondo me lo faranno eh dopo quest'estate quindi io voglio eh mantenere tutta la mia liquidità è per questo che in questo momento sto gestendo molto da trader questa posizione eh anche per le posizioni in hold ho chiuso eh più di un mese fa tante posizioni anche su bitcoin e tiriamo e tiriamo praticamente quasi tutto non ho praticamente nessuna cripto tranne eh qualcosa che tengo per il farming è proprio per mantenere quella che era la liquidità sufficiente di per prendere posizione su quello che mi interessa nei prossimi mesi andiamo a vedere poi CRO ancora la fase di crash ragazzi CRO ehm c'è poco da dire se questa criptovaluta ha effettivamente eh questa struttura ciclica annuale così mostrata quindi un annuale che è iniziato in questa zona a metà del 2021 e poi è andato qui quindi un annuale non conforme a quello delle altre cripto se da qui è iniziato un nuovo ciclo annuale come e teoricamente dovrebbe essere questa cripto scende scende fino a questa estate non c'è niente da non sono livelli di prezzo però c'è poco da fare perché se la struttura ciclica è questa ehm avendo un solo ciclo annuale a disposizione non mi sento di darvi una validità di questa analisi accettabile ve lo dico in maniera molto chiara ve l'ho già detto per può essere che insomma non sia così poi c'era una cripto molto manipolata dal team quindi dipende esclusivamente dalle scelte dell'azienda quindi non ha uno storico tale eh per cui noi riusciamo a comprendere effettivamente l'andamento da un grafico bisogna sempre comprendere quello che fa il team quindi siamo nelle mani del team in questo caso anche altra cosa che appunto non mi piace eh molto vere delle criptovalute e che eh sono manipolabili in maniera estremamente semplice dalla appunto dal team sembra quasi scommettere sulla loro operato piuttosto che sull'andamento eh di uno strumento finanziario però eh in linea di massima conservo ancora le mie cripto sul del CRO per quanto riguarda la carta e quelle che avevo in DeFi eh voglio capire se effettivamente saranno inutili per la carta o meno quindi poi su quello mi regolo se non c'è neanche il rendimento eh su quella parte insomma secondo me qualcosa cambierà nei prossimi giorni vediamo ma da un punto di vista grafico se qui è iniziato il nuovo ciclo eh annuale di eh CRO di CRO e l'ha breccato nelle giorni scorsi questo significa che al di là di una ripresa dovuta magari alla struttura eh ciclica classica magari potrebbe fare una cosa del genere ma poi eh comunque verso la fine del ciclo annuale dovrà andare a fare un nuovo minimo probabilmente anche lì in autunno eh non so dove non so quando ma in questo momento il cioè quando l'abbiamo detto diciamo non so dove in termini di prezzo perché bisogna seguire il mercato ci sono due livelli di supporto estremamente rilevanti 0.24 è il primo e poi tutta quest'area che è immense ragazzi è troppo grande tra 0.24 e 0.14 dovesse breccare questo livello di supporto entra qui dentro probabilmente si fermerà intorno ai 0.18 che significa quasi una uno 0.10 i dollari centesimi dollari inferiore agli attuali livelli di prezzo quindi assolutamente eh no contro trend su crypto.com in questo momento eh per un'eventuale fase di ripresa ci vuole anche tanto perché questa figurazione di pattern non dimostra niente anzi questa è una figurazione di continuazione del trend e c'è bisogno di una barra di congestione c'è bisogno che il mercato si stabilizzi un po' prima di darci magari dei segnali e poi magari avremo un pattern di inversione ma al momento non c'è niente ragazzi quindi eh no sto fuori e quindi mi avete chiesto diciamo cosa fai con crypto.com e resto con quelli che ho nella carta perché sono quelli per conservare diciamo i benefit a questo punto solo di netflix e spotify a quello che abbiamo capito e poi voglio capire anche cosa vorranno fare mi sembra settimana prossima ci sia un aggiornamento anche di questa cosa va bene allora ragazzi per oggi è tutto ritorno alla conferenza oggi abbiamo un panel con tiziano tritico luca boiardi e pietro michelangeli quindi andremo a parlare eh noi quattro anche sul main stage e sarà fantastico come è stato anche ieri un evento incredibile poi magari ve ne parlo quando sono anche in pace ehm e vi spiego un po' questi eventi sono unici ragazzi dovete assolutamente partecipare eh alle conferenze agli eventi dal vivo perché lasciano veramente tanto tanto valore va bene per oggi è tutto vediamo cosa succede venerdì tra virgolette eh vediamo se nasda che recupera e torniamo un po' vediamo un po' di rosso un po' un po' di verde e cancelliamo questo rosso va bene ciao ragazzi grazie a tutti